Bambini vi state divertendo in questa festa di primavera? Sì! E che cosa fate tutta la mattina? Giocchiamo! E balliamo! E' giusto! Il soccorso Alguero, un'associazione che esiste da quanti anni, signor Madale? Che servizio svolgete per la città? Esiste già da 15 anni, precisamente dal 27 luglio del 1995. Non voglio illudermi, ma ad Alguero ci conoscono purtroppo anche per gli interventi che si fanno, però dobbiamo sempre sottolineare che siamo a servizio della città. Nei momenti dolorosi e nei gioiosi come questo. Infatti oggi è davvero una giornata di sole, di colore, di tanti bambini che si divertono. Che cos'è questa giornata di festa con le scuole? Ce la racconti? Allora, in questo momento anche un pochino di nebbia, volevamo accendere un po' di sole, un po' di luce e abbiamo pensato di fare questa prima giornata della primavera, invitando le scuole della Pietraia, di Fertilia e di Sasegada. È un esperimento perché vogliamo imparare dagli errori che facciamo, non farne altri, poi ampliare il prossimo anno questa giornata. Cioè in pratica far trascorrere mezza giornata con i bambini in modo sereno, gioioso e poi alla fine anche con qualcosa di buono, perché poi alla fine inviteremo il gelato a tutti i bambini, 52 kg di gelato. Ci troviamo in un bel prato, in uno spazio a disposizione ampio, quindi a parte il primo soccorso, che è assolutamente importante come servizio alla città, potreste svolgerne ben altri durante l'anno e soprattutto in questi periodi di primavera e di primo sole? Sì, infatti dobbiamo pian piano entrare nella mentalità che questo parco bisogna intanto che ne usufruisca la città. Noi cerchiamo in ogni modo di tenerlo pulito, anche se purtroppo mancano i giochi per i bambini, anzi questo è un appello alle persone di buona volontà se vogliono contribuire a regalarci qualche gioco, ma non per noi, per i bambini, ci fa veramente piacere anche perché così diventa più attraente e più bello. Poi per il resto noi abbiamo già iniziato qui, ne usufruiscono anche le famiglie quasi ogni sabato e ogni domenica per festiccioli o per qualche cresima, compleanno eccetera, quindi è una cosa abbastanza bella. Purtroppo però non abbiamo i giochi perché ai bambini, qualche volta anche ai grandi, servono i giochi. Siete in una zona periferica da valorizzare e da utilizzare come incontro per i ragazzi della periferia e della borgata, signor Masala? Sì, siamo in una zona periferica ma non per questo è un lato negativo, anzi è molto positivo perché intanto siamo di passaggio per le persone che vanno ai vari ospedali e quindi possono anche usufruire del soccorso ogni persona perché avendo anche la sala di accoglienza si può venire qua chiedere una goccia d'acqua, una telefonata, molte volte anche qualcuno usufruisce dei bagni perché giustamente in periferia non è che ci sono bagni pubblici. Insomma è un'utilità sociale il polisocorso, quindi l'appello è sempre valido. Oggi mi vedete vestito da clown proprio per far compagnia, per inserirci proprio con i bambini. Oggi è la giornata della gioia quindi vogliamo che questa gioia la vogliamo trasmettere un pochino a tutti i nostri amministratori, alla città, a tutte le persone di buona volontà. Buongiorno signori, allora questa qui è una manifestazione bellissima, siamo alla grande, è tutto fantastico, grazie a tutti.